Benvenuti nel mondo Icewatch. Icewatch è un marchio belga di orologi fondato nel 2007 da Jean-Pierre Lutgen. Il marchio si distingue per la produzione di orologi alla moda e colorati, che rappresentano uno stile di vita giovane e attivo. Gli orologi Icewatch sono disponibili in una vasta gamma di colori sgargianti, dal verde al rosa, al giallo e al blu, e presentano un design semplice con una cassa in plastica, un quadrante facile da leggere e un cinturino in silicone. Icewatch non si ferma solo ai modelli colorati e alla moda. Il marchio ha infatti lanciato una serie di orologi più eleganti, caratterizzati da una cassa in acciaio inox e un cinturino in pelle o tessuto. Questi orologi sono disponibili in diverse tonalità come il grigio, il nero e il marrone, e presentano un design più sofisticato, adatto a outfit più formali. Il marchio ha collaborato con numerosi designer e celebrità per creare edizioni speciali limitate degli orologi. Tra queste, la collezione di orologi Icewatch di Coca-Cola, che presenta un design ispirato al celebre marchio. Queste edizioni speciali sono caratterizzate da dettagli unici e materiali di alta qualità, che le rendono ancora più desiderabili per i collezionisti e gli appassionati di orologeria. In sintesi, gli orologi Icewatch sono noti per il loro stile alla moda e colorato, l'utilizzo di materiali sostenibili, la precisione dei movimenti al quarzo giapponesi e la resistenza all'acqua. Il marchio ha anche collaborato con designer e celebrità per creare edizioni speciali limitate degli orologi, rendendoli ancora più desiderabili. Se stai cercando un orologio alla moda, sostenibile e di qualità, Icewatch potrebbe essere il marchio giusto per te.